e sbaglia eccetera 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 stiamo entrando nell'ultimo minuto on the finish line we are really about to start less than we are 20 seconds 15 minutes let's wait for 10 seconds 10, 9, 8 7, 6 4, 3 2, 1 start 22, number 22 Gran Fondo Felice Gimondi è partita la 22esima edizione di questa meravigliosa Gran Fondo quelli che stiamo vedendo scopre e partire emozionati sono oltre 4.000 ciclisti appassionati buongiorno, benvenuti benvenuti a Bergamo via Marzobotto benvenuti alla Gran Fondo Felice Gimondi Bianchi, numero 22 da ogni parte del mondo da ogni parte d'Italia buona domenica buon divertimento buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.